Il treno regionale di Trenitalia il treno regionale di Trenitalia il treno regionale di Trenitalia Attenzione, avvisiamo che fino alle ore 21 di oggi i brevi potranno assumire variazioni o cancellazioni per uno sciopato del personale del gruppo Ferrovie dello Stato E3-9. Ci scusiamo per il misaggio. Informazioni presso uffici assistenza clienti e siti Ferrovie dello Stato E3-9.